Da lunedì quando abbiamo riaperto il telefono hanno cominciato ad arrivare tantissime telefonate di richieste di aiuto di donne, ma anche di tanti familiari, amici e parenti preoccupati per le situazioni che le loro care stavano vivendo. È un segnale importante che noi ci auguriamo che continui, perché sappiamo che il fenomeno della violenza maschile sulle donne è un fenomeno sommerso e abbiamo bisogno che tante donne sappiano che esistono i centri antiviolenza, che si possono rivolgere ai centri antiviolenza, anche se non sono sicure che quello che loro stanno vivendo è una relazione abusante o violenta. Quindi l'appello è questo, chiamate il nostro numero verde 881 4681 e poi capiamo insieme come andare avanti. Da 3 a 10 chiamate al giorno sono triplicate le richieste di aiuto delle donne al Centro Veneto Progetti Donna dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. La consapevolezza cresce grazie anche all'appello della famiglia, della giovane, che ha invitato chi si sente vessato dal fidanzato, dal compagno o dal marito a parlare. È importante che chi ascolta non giudichi, che ci sia un ascolto aperto e che ci sia sempre il consiglio di chiedere aiuto e sostegno ai centri antiviolenza o comunque a delle persone che sappiamo possono essere un punto di riferimento per sostenere e proteggere le persone, perché le donne in questo caso, perché purtroppo è un reato che è un fenomeno che colpisce in maniera sproporzionata le donne e le ragazze. Grazie all'inizione Grazie a tutti